Salve, siamo in compagnia di Raffaele Bono e di sua moglie Rosarita. Siamo in casa sua, ci ha accolti e noi vorremmo rivolgerle una domanda. Cosa rappresenta la caremma che abbiamo visto fuori sul balcone? Allora, la caremma è la moglie del carnevale. Quando finisce il carnevale, muore, e allora la moglie, diciamo, per esporsi alla gente, si mette al balcone. Confuso alle mani, come se lavorasse, diciamo, fila la lana. E allora tutta la gente gli passa la guarda e gli dice, no, guarda che bella, bella. E quindi si va avanti per quattro settimane. Tutto il periodo della paresima. Dopo, poi, per la bruciata, l'ultimo giorno della paresima, la prendiamo, la portiamo in campagna. E si dà fuoco? E si dà fuoco, giusto. Ah, e così si conclude la fase del carnevale. Ecco, ecco. Va bene, io ringrazio Rosarita, è stata gentilissima. Ciao. 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 Ciao.